Cioè di cambiare la Costituzione in agosto così, noi cerchiamo di fare e faremo fino all'ultimo il nostro dovere, di fare emendamenti dove vogliamo un Senato di fiducia, vogliamo un Senato eletto dai cittadini e non nominati dai consiglieri e dai sindaci di questa gente, vogliamo l'addimezzamento dei parlamentari, vogliamo togliere i pregiudicati che non arrivino più in Parlamento con una legge come avevamo proposto nel 2007, non è difficile.